Hola a tutti ragazzi, questo venerdì 5 novembre tutti quanti a tifare l'Italia nell'evento Bellator Si perché ragazzi ci saranno ben due italiani, due dei nostri italiani che combatteranno l'evento Bellator 270 e sto parlando di Nicolo Solli e Daniele Scatizzi La serata come main event avrà il match tra Peter Quelli e Patrick Pitbull ma tanto a noi non ci interessa ragazzi perché ci soffermiamo già a parlare solamente di Scatizzi e Solli Sono Daniele Scatizzi, fai del professionista di MMA che purtroppo non faranno parte della minecard principale ma faranno parte delle preliminary cards ed è un bene questo perché non andremo a pagare per vedere i match perché le preliminary cards saranno viste gratuitamente sull'applicazione di Bellator MMA oppure direttamente in streaming sul loro canale YouTube Bellator MMA Quindi ragazzi non ci sono scuse, tutti a tifare venerdì 5 novembre i nostri italiani Nico Solli e Daniele Scatizzi Il nostro caro Nico Solli andrà a combattere contro l'avversario Bobby Pallet un avversario parecchio tosto con 5 match e 5 vittorie La cosa particolare di questo fighter è che la maggior parte delle sue vittorie sono avvenute tutte per TKO quindi è un match veramente difficile per Nico Solli che lo metterà a dura prova Il record di Solli però non è da meno perché nei suoi 4 match si è portato a casa 3 vittorie e una sola sconfitta Dall'altra parte abbiamo Daniele Scatizzi che andrà a combattere contro l'avversario Brian Hoy Hoy, non so come si pronunci ed anche in questo caso come avversario per Scatizzi abbiamo un avversario che ha qualche match in più quindi qualche esperienza in più con un record di 16 vittorie e 8 sconfitte mentre dall'altra parte Daniele Scatizzi si difende comunque con un record di 10 vittorie e 5 sconfitte e quest'ultimo però non dimentichiamocelo arriva dall'ultimo match che ha vinto per ghigliottina quando tutti lo davano praticamente per spacciato quindi ragazzi sono convinto che Scatizzi ci farà la sorpresa anche questa volta portandosi a casa anche questo match però forse non dovrei più fare pronostici perché abbiamo visto come vanno a finire i miei pronostici che porto sul canale praticamente ragazzi porto una sfiga assurda a tutti i fighter quindi forse è meglio non dire più nulla di questi pronostici ma ora veniamo alla domanda più ricorrente che mi state facendo tutti quanti sui social e sotto i video a che ore combattono Nico Solli e Daniele Scatizzi allora ragazzi essendo che i match saranno presenti nella preliminary cards e ripeto saranno visti gratuitamente, gratis sull'applicazione Bellator MMA che potrete tranquillamente scaricare sul vostro smartphone visto che siamo tutti tecnologici oramai oppure ancora meglio direttamente in streaming sul loro canale youtube ufficiale Bellator MMA e le preliminary cards cominceranno alle 19.30 di sera mentre Daniele Scatizzi dovrebbe combattere attorno alle ore 22 e niente ragazzi io tutto quello che ci avevo da dire ve l'ho detto ricordatevi venerdì impostate la sveglia tutti quanti a tifare Nicolo Solli e il nostro Daniele Scatizzi fatemi sapere voi sotto nei commenti come pensate che andranno a finire questo match scrivete i vostri pronostici sotto nei commenti io purtroppo non posso più fare pronostici ragazzi perché abbiamo scoperto che porta una sfiga assurda quindi mi astengo dal portarvi altri pronostici scrivetelo voi sotto nei commenti noi ci vediamo al prossimo video oeeh ciao 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 ciao